salve buongiorno oggi è il 21 21 di marzo oggi inizia il grande ciclo governatore marte il grande ciclo che si conclude il 21 di marzo del 2025 allora l'informazione questa in questo periodo ieri ho letto su google che si dovrebbe ristrutturare così si dice diciamo fare qualcosa di nuovo su youtube speriamo che sia vero perché youtube ha perso un po di smalto in questo periodo io sto facendo dei video su tik tok ho aperto un altro un altro profilo in cui voglio inserire la l'astrologia ho fatto dei video li farò in bianco e nero pubblicherò qualche previsione se volete entrare nel mio gruppo cioè nel mio gruppo nel mio profilo di tik tok dovete digitare la marcilotto e mi trovate farò un profilo solo di amici in modo che possono entrare solo gli amici non farò entrare tutti se non mi trovate eventualmente venite sul mio whatsapp e vi metto il link vi metto i video così funziona trasferisco il video su comunque dovrebbe essere sono abbastanza rintracciabile basta che mi seguite su tik tok e digitate la marcilotto o marcilotto con la labo aspetta che guardo aspetta è perché non mi ricordo già comunque la marcilotto vediamo un attimo eccola qua allora la marcilotto c'è la mia foto e follower 6.504 la madonna l'ho aperto ieri o che me li ha regalati non lo so ecco la foto che c'è sulla marcilotto non so se si è riuscita a vederla è questa vedete vabbè comunque morale della favola qua addirittura c'è 6.500 4 follower da dove arrivano non lo so non ho la più palida idea o che me le ha regalati ti tocca perché sono un fenomeno sono la migliore sono la più brava e sono la più figa sì sì è così allora ci so avrò due profili la marci che dove cazzeggio faccio i balletti e la marcilotto dove farò astrologia e astro interventi di astrologia politica astronomia e anche previsioni dell'otto io mi trovate lì se non riuscite a trovarmi dovete iscrivervi ovviamente se non riuscite a trovarmi venite sul mio whatsapp e vi mando il link questo è tutto per oggi ciao e grazie